ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andiamo a fare vedere un nuovo liquido vai birillo esponicelo allora il liquido si chiama x1 dell iron vapor liquidozzo che 10 ml abbiamo aggiunto la basetta 30 ml di basetta per arrivare a 40 a riempire la boccettina questo qua è un campione ricordiamolo salutiamo cristiano di svapo caffè marina di carara avenza la spezia e moleciara andate a trovare il grande qui ora farci faremo la prova di questo liquido x1 x1 sarebbe una ciambella glassata con della fragola no già del patto sul mio druga e cani io gani e l'apocalips la fragola si sente eh si il fritto non è male però è troppo olio si si sente un po' di fritto tipo festa dell'unità quando fringono i bomboloni gli ultimi bomboloni che sono solo di fritto però cioè è più fritto che la fragola vero se c'era un po' più di fragola questo va sembrare liquidoso che avevamo già ricensito precedentemente si possa vicino a quelli che ero lì però c'è si prende un sei e mezzo sei e mezzo liquidito particolare deve piacere deve piacere l'orio se no dopo un po' smaga smaga sì dopo un po' smaga sì dopo un po' smaga allora da tavola dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare vi aspettiamo ciao 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 ciao